Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi ragazzi, come vedete, sono tornato E sono tornato alla grande Questo è il primo video di tanti che usciranno E ne usciranno di quelli fotonici Non avete idea di quanti pesci ho fatto negli scorsi weekend Ragazzi, vi dico un attimo due cose Al volo, ho in mente un sacco di progetti Sto organizzando per fare un sacco di cose Anzi, una che è già registrata Una che sto programmando Quindi ragazzi, questo è il momento per mandare questo video ai vostri amici Perché succederanno delle cose qua Tutto ottobre e novembre ci sono delle gare assurde Si rischia di fare qualcosa di molto figo il prossimo anno Quindi mica roba da poco Prima di iniziare il video vi ricordo velocemente Lasciate like, iscrivetevi al canale Lasciate un commentino qua sotto Ditemi, secondo voi, cosa succederà E dunque non stiamo qua a perdere altro tempo E via con il video E via con il video E diventate un tozzo Uff, che czyta, uff ok ci siamo liberale non c'è stato un altro Sì 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 Porca troia Sì 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 Sì